Verbo avere Io ho Tu hai Lui ha Lei ha Noi abbiamo Voi avete Loro hanno Io ho Tu hai Lui ha Lei ha Noi abbiamo Voi avete Loro hanno Io ho la macchina Io ho la macchina Lei ha la felpa Lei ha la felpa Noi abbiamo Il cane Noi abbiamo Il cane Tu hai Tu hai Il computer Tu hai Il computer Sì Io ho Il computer Sì Io ho Il computer Loro hanno i soldi Loro hanno i soldi Proviamo ancora una volta Forma negativa Tu non hai Lui non ha Lei non ha Noi non abbiamo Voi non avete Loro non hanno Io non ho Tu non hai Lui non ha Lei non ha Noi non abbiamo Voi non avete Loro non hanno Lei non ha La felpa Lei non ha La felpa Noi non abbiamo Abbiamo il gatto Noi non abbiamo il gatto Tu non hai lo zaino Tu non hai lo zaino Io non ho la macchina Voi non avete il giardino Proviamo ancora Io non ho Tu non hai Lui non ha Lei non ha Noi non abbiamo Voi non avete Loro non hanno Espressioni con avere Avere caldo Avere freddo Avere fame Avere sete Avere sonno Avere fretta Avere paura Avere voglia di Aver bisogno di Avere caldo Io ho caldo Io ho caldo Avere freddo Io ho freddo Avere fame Io ho fame Avere sete Io ho sete Avere sonno Io ho sonno Io ho sonno Avere fretta Io ho fretta Aver paura Io ho paura Aver voglia Avere voglia di Io ho voglia di mangiare Aver bisogno di Io ho bisogno di parlare Io ho caldo Io ho caldo Lei ha sete Lei ha sete Noi abbiamo fame Noi abbiamo fame Tu hai paura? Tu hai paura? Noi non abbiamo fretta Noi non abbiamo fretta Luca ha sonno Luca ha sonno Tu hai bisogno di soldi? Tu hai bisogno di soldi? Io non ho voglia di parlare Io non ho voglia di parlare Hai freddo? Sì Ho freddo Ho bisogno di una felpa Hai sete? No Non ho sete Ho tanta fame Ho voglia di pasta Hai sonno? No Ho caldo E non ho voglia di studiare Hai freddo? Sì Ho freddo Ho bisogno di una felpa Hai sete? No Non ho sete Ho tanta fame Ho voglia di pasta Hai sonno? No Ho caldo E non ho voglia di studiare I numeri Uno Un Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Sette Quattro quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici quindici sedici diciassette diciotto diciannove venti undici undici dodici tredici quattordici quindici quindici sedici dici diciassette diciotto diciannove venti venti ventuno ventidue ventitre ventiquattro venti 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 ventisette ventotto venti venti otto ventinove trenta ventuno ventidue venti 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 quattro venticinque venti ventisei ventisette ventiotto ventinove ventinove trenta trentuno ventuno 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 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 60 61 62 63 64 65 66 67 68 68 69 70 71 71 72 73 74 75 76 77 78 79 79 79 80 81 82 82 83 84 85 86 87 87 85 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 69 81 87 86 93 82 92 92 93 92 93 94 95 95 91 86 87 98 98 cento duecento trecento quattrocento cinquecento seicento settecento ottocento novecento mille mille duemila tremila quattromila cinquemila seimila settemila ottomila novemila leggiamo insieme uno tre tre due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici tredici quattordici quindici sedici diciassette diciotto diciannove venti venti ventuno ventidue ventitre ventiquattro venticinque ventisei ventisette ventotto ventinove ventinove trenta quaranta cinquanta sessanta settanta ottanta novanta cento cento duecento mille duemila quanti quanti anni hai ho ventiquattro anni quanti anni ha antonio lui ha trent'anni quanti anni ha sofia lei ha ventiquattro anni quanti anni ha fabrizio lui ha diciotto anni quanti anni hai ho ventiquattro anni ho ventiquattro anni quanti anni ha antonio lui ha trent'anni quanti anni ha sofia lei ha ventiquattro anni quanti anni ha fabrizio lui ha diciotto anni io non ho il telefono hai bisogno hai bisogno di chiamare Rebecca sì ho voglia di invitare Rebecca alla festa proviamo a cercare il telefono nella borsa ok grazie hai una sorella no non ho sorelle ma ho due fratelli e tu? sì ho due sorelle ma non ho fratelli io non ho il telefono ma non ho fratelli e tu? sì ho due sorelle ma non ho fratelli amici imparate bene il verbo avere e i numeri vi aspetto alla prossima lezione dal lonti dori già 按 sul ora guardarle grazie Grazie.